La più controversa delle settimane per l'AVL, iniziata con la vittoria su Avellino e continuata con le spiazzanti di missioni di coach sacripanti, si è chiusa per il basket pesarese con la sconfitta del sabato sera sul parquet di Rieti. In terra laziale la squadra, guidata per l'occasione da Giacomo Baioni, cade 86-80 in una serata in cui salgono i giri degli americani, ma non bastano i 30 punti di Ahmad a evitare una sconfitta in cui l'AVL si mostra fragile difensivamente e discontinua nelle varie fasi della partita. Una partita in cui Rieti chiude avanti il primo quarto 24-20 con un incredibile canestro da metà campo sulla sirena, per poi mantenersi sempre avanti, capace di rispedire al mittente i tentativi di un'AVL che resta sempre a contatto degli avversari, ma non abbastanza per risollevare le sorti del match. Nel calcio terzo pareggio consecutivo per l'Avis Pesaro che fa 1-1 al Benelli contro il Pinetto caricato dal cambio d'allenatore avvenuto in settimana. Succede tutto nel primo tempo con gli abruzzesi avanti dopo 21 minuti con il calcio di punizione di Bruzzaniti e l'Avis che la riacciuffa 12 minuti dopo col primo gol pesarese di Orejana che sfodera un'ottima conclusione su altrettanto pregevole assist di Paganini, la miglior giocata di un'Avis che fa globalmente un passo indietro di prestazione. Nella pallavolo seconda partita stagionale per la Megabox, seconda trasferta e seconda gara trascinata al tiebreak. Con la differenza che dopo le 2 ore e 43 minuti di Firenze, questa volta le 2 ore e 46 minuti di Perugia, premiano Vallefoglia che spugna il Palabarton 3-2 e si prende due preziosi punti in classifica. Dopo un avvio tutto in discesa, le Tigri, privi di Simon Lì tenute a riposo per motivi precauzionali, si sono dovute guadagnare punto su punto la vittoria, dovendo far fronte a momenti in cui l'avversario con Nemet e Ungureanu sono parsi inarrestabili. Decisivo però il cinismo dimostrato dalla squadra di pistola nei finali del terzo e del quinto set, strappati di un soffio annullando palle set e match point. I parziali recitano 12-25, 25-19, 30-32, 25-15, 17-19. Nel rugby è partito il campionato di Serie A con la Fiorini-Pesaro che al debutto al Tecnovo Rugby Park di Muraglia cade 23-24 contro Casale, premiata da un decisivo calcio di punizione nelle finali di gara. Pesaro deve accontentarsi del solo punto di bonus difensivo dopo un primo tempo condotto sempre avanti e partito con un 13-0 frutto delle mete di Mei e Venturini. Quest'ultimo schiaccerà una terza meta in un primo tempo chiuso sul 20-14. Sarà però l'ultima meta pesarese perché nel secondo tempo va in scena la rimonta di Casale che prima va in vantaggio con una molle, poi torna sotto su punizione fino al fallo pesarese che vale il controsorpasso e la vittoria dei piemontesi.